Il centrocampista che lei preferiva non è arrivato, in sostanza la domanda è questa, le manca Pogba oppure no? Sente la mancanza, la nostalgia? Pogba mi manca perché ora devo trovare un altro che gioca a porticine con me o a pallacanestro. Per il resto ho dei buoni giocatori, ho dei grandi giocatori, passano nelle società, passano gli allenatori, passano i giocatori. La Juventus è una grande squadra con caratteristiche diverse dall'anno scorso, bisogna migliorare tanto, si devono integrare ancora ai nuovi, non è semplice mettere 5 giocatori nuovi, però stasera Piazza ha fatto una bella partita anche quando in 10 minuti si è creata un'occasione a gol, così come Benatia al debut non era semplice, si è dimostrata all'altezza. Sono contento della cosa che ho a disposizione, è normale che bisogna migliorare sul piano del gioco. Quando giocherai dall'inizio, è stato preso per il campionato o per la Coppa? Iguaino è stato preso per giocare la Juventus, pochi giochi in campionato o in Coppa, lo dovevo decidere io. Ora in questo momento qui Iguaino è in ritardo di condizione, ma è iniziato ad allenarsi il 2 di agosto e abbiamo avuto poca possibilità anche di fare delle amichevoli. Però intanto ha fatto gol e domenica ci ha portato 3 punti. Oggi è entrato, appena entrato, abbiamo fatto gol, quindi sicuramente meno porta fortuna. E quindi... Grazie.